Allora, Roberta invece, passiamo a questo contesto qua che è anche molto interessante. Ne abbiamo parlato in altre puntate, riferito alla legge, in quel caso agli animali. C'era l'avvocato, se mi ricordo, Piardi, se non sbaglio, che parlava appunto di depredazione di reati di sotto i 5 anni riferiti alla violenza, ma al trattamento degli animali. Poi invece questa sorta, questa legge, insomma, va a colpire un po' tutti i reati, no? Prego, Roberta. L'avvocato Bordone, buongiorno. Volevo farle una domanda. Se una persona è recidiva con la depredizzazione dei reati, cosa succede? Guardi, bisogna, io credo, distinguere due momenti. Noi, sentivo prima il dottor Marra invocare una certa fattività nella necessità di fare le riforme. In qualche modo io credo che questa legge, che è la legge 67 del 2014, che è una legge delega, ed è una legge molto ambiziosa, in qualche modo va in questa direzione, perché chiaramente adesso demandando ai decreti legislativi che dovranno essere poi applicati, è una legge che ha le potenzialità di essere una legge di vera riforma del sistema penale. È una legge che è stata definita una legge di depenalizzazione, ma diciamo propriamente, ma anche impropriamente sotto molti aspetti. Introduce quelle che possiamo definire due forme di depenalizzazione. Una propria, cioè l'abrogazione di determinati reati. Pensiamo al reato 10 bis famigerato, cioè quello di cosiddetto reato di immigrazione clandestina, ma anche altri reati che per molto tempo hanno comunque dato vita a processi, penso all'ingiuria, piuttosto che al danneggiamento semplice, che sono reati che verranno effettivamente depenalizzati, perché questa è l'indicazione, quindi una indicazione di abrogazione che viene data dal legislatore delegante. Poi c'è un'altra fase nella legge, che è stata con qualche efficacia definita depenalizzazione in concreto, che invece fa riferimento a un istituto diverso. Cioè, facoltizza il giudice a determinate condizioni, in particolare in situazioni di tenuità del fatto, in non abitualità, questo per rispondere alla sua domanda, quindi un recidivo reiterato di per sé sarà escluso da un'applicazione di questo istituto, introduce l'istituto della irrilevanza del fatto. Limitatamente ai reati puniti con pena massima, pena è dittale massima, non superiore ai 5 anni. Certamente comprende una dimensione, quindi un numero di reati estremamente ampio come riferimento, però bisogna stare attenti, perché si legge, si è visto anche con un certo qual clamore mediatico, parlare di abbandono della volontà punitiva dello Stato, perché si andava a depenalizzare lo stalking, che è il reato appena introdotto, piuttosto che il maltrattamento sugli animali, eccetera. Ma in realtà non è questa la scelta del legislatore delegato. Poi c'è stata una levata di scudi anche dei comporti degli animali, gli animalisti che hanno... Assolutamente sì, ma non è proprio questa la lettura della legge. La legge non dice che quei reati non sono più reati. O non sono punibili. O non sono punibili. La legge si limita ad affermare che in determinate situazioni in cui ci siano, quindi casi concreti, di particolare tenuità e non abituali, quindi a fronte di persone che non siano già stati coinvolti in vicende analoghe, il giudice può scegliere di archiviare il procedimento per irrilevanza. Considerate che, peraltro, è un equivoco piuttosto comune l'idea che in qualche modo lo Stato debba intervenire, debba intervenire penalmente per sopprimere qualunque situazione di devianza, anche minima. In verità è esattamente vero il contrario. Cioè la grande forza dello Stato è quella di sapersi tirare indietro quando una determinata violazione alle leggi non raggiunga una soglia effettivamente rilevante. Il tema dell'irrilevanza è un istituto, peraltro, Presidente, lei me lo insegna, che è già conosciuto dal nostro ordinamento. Lo abbiamo, per esempio, nell'ambito della giustizia minorile, dove l'irrilevanza del fatto è una classica modalità di definizione del processo. È conosciuto anche, sia pure con qualche diversità rispetto a quella che dovrà essere introdotta dal legislatore a fronte della delega nei casi di esercizio dell'azione penale davanti al giudice di pace. Quindi non è un istituto nuovo, ma non è, come è stato detto, la cancellazione dei reati. Introduce semplicemente una possibilità in più per il giudice in ottica di deflazione, certamente, del lavoro del contenzioso penale, ma anche nell'ottica assolutamente orientata da un punto di vista costituzionale, di assicurare che il diritto penale sia veramente extrema razio, cioè intervento ultimo da parte dello Stato, l'intervento ultimo e, in qualche modo, non cercato, cioè a cui lo Stato non demanda la gestione della collettività. Per rispondere alla sua domanda, signora, certamente un recidivo reiterato non entrerà ad avere alcun vantaggio dalla cosiddetta irrilevanza del fatto. Proprio per legge è stato escluso che una persona che abbia abitualità nel crimine possa avvalersi di questo. Sarà il giudice a giudicare in questo caso se attuare appunto la legge, quindi comunque dire che è reato quello che ha commesso questa persona oppure invece no, perché è stato un caso piuttosto occasionale, piuttosto che altro e, come dice lei, la persona, insomma, non lo so, in un attimo di follia, che ne so, ha combinato qualcosa, però, insomma, i giudici diventano un po' un papà. Stiamo parlando di reati lievi, dove il massimo della pena prevista dal codice non superi i cinque anni. Ah, certo, è chiaro che ci hanno ammazzato una persona. E anche di reati di situazioni che vengano giudicate di particolare tenuità, perché uno dei punti su cui ho sentito maggior clamore è stato l'affermata depenalizzazione degli atti persecutori, cioè dello stalking. In realtà, è un'opinione personale, ma io dubito fortemente che ci potrà mai essere una dichiarazione di irrilevanza per un atto di stalking. No, in realtà, il reato di stalking può rientrare, qualora il giudice lo stabilisca, in un percorso alternativo a quello che noi chiamiamo giustizia riparativa esterna. Giustizia riparativa esterna, dove in realtà non è che viene depenalizzato e finisce lì. In realtà, se qualora il magistrato, il giudice, prevede che ci sono le condizioni, quindi che non ci sia reati nel frattempo commessi dello stesso individuo o quant'altro, viene affidato a questa giustizia riparativa esterna e a fine percorso il reato viene estinto, che è quello che si chiama in gergo giuridico progetto Uepe, che è una giustizia riparativa esterna. Quindi non è che viene escluso, viene cancellato e tutto il resto. Una sorta di probation all'inglese. Ecco, quindi viene affidato a un percorso di giustizia riparativa esterna che è presente in tutta Italia, dove si è in questo percorso e alla fine il reato viene estinto. Questo fa sì che chi ha commesso il reato e ha accertato che il reato è stato consumato possa far sì che sicuramente, come diceva prima l'avvocato, non è un incallito delinguente, possa rinserirsi nel sociale con un reato che in realtà è stato estinto a fine percorso. Quindi una persona, come si suol dire in gergo della vicina di casa, la fedina penale per quel reato pulita. Ecco, in questi casi, così adesso non so se c'entra qualcosa, ma può essere anche che ci siano, per esempio, questa persona, come nel caso del Presidente Berlusconi, messo a fare servizi sociali, piuttosto che... Non c'entra niente, non c'entra niente. Non c'entra niente. Perfetto. Ho detto la mia panzanata di oggi. Stiamo parlando di un reato dove, ripeto, la pena massima prevista dal codice non superi i cinque anni e dove non ci sono altri procedimenti penali in corso. Bene. Faccio un'altra domanda. Allora, l'avvocato. Avvocato, quando noi, cioè quando una vittima deve fare una denuncia a querela a proposito del 612 atto i persecutori, prima di passare a un'azione penale sarebbe meglio passare a un ammonimento? Sì, è previsto dalla legge, è in qualche modo addirittura il percorso normale, diciamo così, quello che dovrebbe arrivare per forza. La statistica di una vittima che subisce atti persecutori funziona all'ammonimento o quasi sempre si fa il salto con una denuncia penale? No, forse il dottor Marra potrà rispondere più di quanto io so. La realtà, io voglio un attimino, adesso mi attiro le antipatie dell'avvocato. In realtà, un cittadino che va dal legale al 95%, mi dispiace dirlo, l'avvocato sorpassa l'ammonimento. L'ammonimento che cos'è? In realtà... Del quale lei ha già parlato e che è un'altra puntata. Di cui ho già parlato. No, l'85, anche il 90% degli avvocati o qualcosa in più, salta direttamente l'ammonimento. E questo purtroppo è un dato increscioso per un semplice fatto. Perché? Innanzitutto, come dicevamo nelle puntate precedenti, chi commette questi reati in realtà ha già circuito mentalmente la persona. Quando si va dagli avvocati si va già perché ormai è arrivato al punto di non ritorno. L'ammonimento che cos'è? L'ammonimento è un deposito di un documento davanti a un pubblico ufficiale di polizia o carabinieri o quant'altro viene chiamato in causa chi ha commesso il reato si dà un periodo di tempo qualora in questo periodo di tempo lui non cerca di far sì che sistemare le cose si proceda avanti si procede d'ufficio perché stiamo parlando di reati in cui anche se poi la denuncia come nel 70% dei casi viene ritirata non può essere ritirata perché c'è una procedibilità d'ufficio quando si va dagli avvocati gli avvocati dicono è inutile andare avanti tanto per il periodo di tempo gli dicono gli avvocati al cliente per un periodo di tempo fin quando c'è questo periodo tutto funzionerà bene tanto vale andare avanti però purtroppo tante volte si può anche salvare una persona spezza una lancia fuori della categoria in realtà in realtà capita nella mia esperienza di piccolo avvocato di provincia per carità quindi nulla nulla di più ma capita molto spesso in realtà di intraprendere la strada dell'ammonimento poi certo signore io una risposta alla sua domanda a livello statistico nazionale non ce l'ho devo dire per esperienza personale ho visto raramente la procedura di ammonimento concludersi poi con un abbandono da parte della persona da denunciare diciamo così della propria della propria condotta non ho ripeto volontà a livello nazionale 75% c'è questo dato che lei insomma evince 75% a livello nazionale ecco un'ultima domanda che voglio fare appunto poi purtroppo dobbiamo cambiare salotto ecco devo salutare io a volte faccio il male educato salutare i nostri ospiti dalla prima parte e poi abbiamo altre argomentazioni l'avvocato Bordone abbiamo parlato di immigrazione quindi il contesto di non è più reato l'immigrazione clandestina ma questo non vuol dire che uno può essere clandestino e fare quello che vuole no? chiediamo questo concetto assolutamente no siamo sempre sulla legge 67 c'è l'indicazione data dall'agilatore delegante la volontà di abrogare l'articolo 10 bis che era il reato di immigrazione clandestina sbagliato affermare che la legge 67 cancelli l'immigrazione clandestina sia per quello che diceva lei adesso cioè l'immigrazione clandestina rimane un illecito non è più considerato un reato ma in ogni caso l'immigrato clandestino che venga trovato e riconosciuto come tale sarà sottoposto al procedimento amministrativo che può condurre fino all'espulsione in determinati casi all'espulsione eseguita con accompagnamento alla frontiera e quindi all'allontanamento adesso che ne vengano eseguite di questo tipo di espulsione all'allontanamento dallo Stato e se lo dice il dottor Dezzotti possiamo dire che è della pura realtà